Grazie Presidente, grazie a tutti i membri. Voglio iniziare ringraziando, come sapete, questo parere lo abbiamo realizzato insieme come correlatori, io e il Presidente Schneider, e lo ringrazio anche per l'ottimo lavoro di cooperazione che abbiamo tenuto nel corso dei lavori di questi mesi e ringrazio anche i nostri rispettivi esperti Caporizzi e Fenner. Un ringraziamento anche ai membri della Commissione Coter perché con l'approvazione unanime del nostro parere che portiamo oggi in plenaria abbiamo condiviso soprattutto i contenuti e abbiamo permesso di realizzare con qualità un lavoro che sia in grado di interpretare la posizione comune di tutti i membri del Comitato delle Regioni. In modo particolare credo che questo non è solo un apprezzamento, la fiducia nel nostro lavoro, ma è soprattutto il riconoscimento dell'importanza di questo documento che possiamo chiamare un documento faro, quale è il regolamento generale, per le collettività locali e regionali. Abbiamo lavorato nei mesi scorsi, in questi due anni, a portare avanti i contenuti dell'Alleanza per la coesione, volta a garantire il mantenimento di una politica europea di coesione per tutte le regioni europee e con questo parere mettiamo anche in evidenza alcuni aspetti all'interno ovviamente del quadro legislativo e delle raccomandazioni politiche della proposta fatta dalla Commissione europea, sottolineando quanto, ancora una volta, sia importante la politica di coesione come volto visibile e concreto per i cittadini e per le comunità. Se c'è un elemento dove noi possiamo dire ai cittadini, alle nostre comunità, qui l'Europa ci ha aiutato, è proprio rispetto a tutto ciò che siamo in grado di realizzare per imprese e cittadini utilizzando al meglio gli strumenti della politica di coesione. Il progetto di testo contiene 78 emendamenti legislativi, erano un numero inferiore, ne abbiamo raccolti alcuni all'interno del lavoro della Commissione, ci sono 32 raccomandazioni politiche, evidenziamo soprattutto i punti condivisi, anche quello di mantenere una politica di coesione per tutte le regioni, un'architettura basata sulle tre tipologie di regioni beneficiarie, evidenziamo alcune preoccupazioni che speriamo potranno essere raccolte anche nelle riflessioni dei prossimi mesi sulla rimozione del Fondo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dal regolamento, dalle disposizioni comuni e di fatto minando un po' quell'idea di approccio integrato tra fondi strutturali di investimento e politiche per le aree rurali e ribadiamo soprattutto, vogliamo sottolinearlo, che il Fondo Sociale Europeo, anche il nuovo strumento del Fondo Sociale Europeo Plus, sia parte integrante e rinunciabile del quadro programmatorio della politica europea di coesione. Abbiamo anche posto i punti che più ci interessano, quello di poter rinnovare e vedere, costruire una nuova strategia, una strategia rinnovata di lungo periodo che abbia al centro gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Abbiamo messo molto l'accento sui temi della semplificazione, alcune cose sono già raccolte, altre riteniamo che si possano fare ancora di più e meglio per alleggerire le comunità locali, i beneficiari finali che sono enti territoriali, che sono imprese, che sono cittadini nell'accesso agli strumenti. Riteniamo, questa è una nostra proposta, che sia opportuno mantenere, evitare la reintroduzione della regola dell'N più 2, mantenendo invece la regola dell'N più 3, che consenta anche di evitare un eccessivo onere amministrativo nell'avvio della nuova programmazione e abbiamo soprattutto indicato una posizione più volte ribadita dal Comitato delle Regioni, che qualora si ritenga che la condizionalità macroeconomica per la politica di coesione debba esserci, questo a nostra posizione è contraria, mentre riteniamo che bisogna assumere il partenariato fino in fondo anche nell'ambito del semestre europeo, il partenariato con le autorità locali e regionali. Abbiamo cercato di interpretare, voglio dire, di fare una sintesi anche di posizioni che si sono sviluppate non solo nel momento della presentazione delle disposizioni comuni da parte della Commissione europea, ma abbiamo cercato di mettere in modo particolare nelle raccomandazioni politiche il punto di vista politico del Comitato delle Regioni, anche su questo quadro legislativo che abbiamo apprezzato in molte sue parti, cercando di migliorarlo e anche di metterci a disposizione, come prima abbiamo detto con la Commissaria Crezzo, di un lavoro di difesa anche della posizione del Comitato delle Regioni, consapevoli di fare così anche gli interessi delle nostre comunità e di usare e sfruttare al meglio gli obiettivi della politica di coesione. Grazie, grazie anche per questo lavoro comune e per tutti i suggerimenti che sono venuti da voi membri del Comitato.